Paola Caruso stufa dei commenti che riceve sui social. Ho una sola mamma ed è Wanda. Paola Caruso stufa di ricevere sui social commenti accuse relative al fatto che ultimamente non è quasi mai insieme a Ima, la madre biologica ritrovata grazie a Barbara D'Urso. Caruso ha spiegato di avere una sola mamma e questo è Wanda, la donna che l'ha adottato e cresciuta. In un serie di Instagram stories la bionda è apparsa piuttosto alterata. Voglio chiarire perché ho letto un sacco di commenti stupiti. Io di mamma ne ho uno, che è la mia mamma che mi ha cresciuta ed è quel che amo, perché di mamma c'è una, come io sono unica per mio figlio. Ha fatto sapere. Aver ritrovato una madre biologica a 35 anni non vuol dire che la posso amare come mia madre. Ora che sono oma so quanto sacrifici si fanno per crescere un figlio, quindi ovviamente per Ima provo un bene, per mia sorella provo un bene, ma sicuramente per me di mia mamma c'è una sola, c'è e quella che ti cresce. Ho aggiunto Paola che ha anche condiviso alcune immagini dei festeggiamenti dell'onomastico del figlio Michele. Ho continuato. Non ho litigato con nessuno, ma mia madre ha solo me e lei per me e la mia vita. Ima ha la sua vita e i suoi figli e non è solo come mia mamma. E per me di mamma c'è una sola. Punto. Infine, la Caruso ha voluto anche sottolineare come non sia stata lei a cercare la madre biologica. Non ne sentiva l'esigenza. Poi, sempre per chiarire, io non ho cercato nessun tramite la televisione. È stata mia sorella che ha scritto una lettera a Barbara. Io non ho cercato nessuno. Piano piano col tempo le cose si sistimeranno. Piano piano l'affetto aumenterà come giusto. Ma per me di mamma c'è una ed è Wanda. Ha concluso.